Dovrei controllare le gomme. Devo sistemare la carrozzeria. Ho bisogno di un tagliando. Ma a chi posso rivolgermi? Ma certo! Gianni Pedrotti fa per me. È a pochi minuti dall'Alto Garda, a Cavedine. E solo lui può offrirmi un servizio completo per la manutenzione della mia automobile. Nell'officina Gianni Pedrotti trovi l'esperto per tutto quello che riguarda la tua auto. Centro revisioni autorizzato auto e moto, autodiagnosi computerizzata, riparazioni di tutte le marche, elettrauto e gommista, carrozzeria a forno, servizio diesel, impianti GPL. Nella zona artigianale di Cavedine, Gianni Pedrotti. Tutto l'amore per la tua auto.